verso la conquista voci dell'infinito attraverso vanda albano giugno 1998 a cura di vb i fratelli dello spazio salve in alto i vostri cuori l'energia si è profusa su tutte le creature che avanzando lungo un percorso di aspra salita risvegliano la propria coscienza punto energetico di tutto un cammino sempre protesa verso l'infinito verso la cima della montagna verso la conquista della perfezione voi non colloquiate con la vostra coscienza alla ricerca di tutte le risposte eppure come un serbatoio la coscienza conserva le esperienze adatte a farvi superare gli ostacoli e realizzare la vostra evoluzione la coscienza è la vostra parte più importante e con l'anima custodisce il seme che deriva dalla frantumazione dell'amore amore che come linfa vitale vi offre il risveglio per procedere ed essere coscienti di appartenere proprio a lui all'amore che deve essere donato a tutti e a tutto